L'importante era portare a casa la salvezza del Crotone. Sono molto contento perché ci siamo riusciti e ora ci godiamo questo momento perché è stata un'annata molto particolare e ora stacchiamo la spina e finalmente ci godiamo questo momento. Devo dire la verità, noi non ci siamo mai sentiti retrocessi perché sapevamo che avevamo una grande squadra, era solo questione di abituarci al gioco perché comunque rispetto agli scorsi anni il Crotone è partito con molti giovani e molta gente con poca esperienza in B, però la cosa importante è che ci siamo messi sotto ascoltando l'allenatore e alla fine abbiamo centrato l'obiettivo che è la cosa più importante da fare. Noi sapevamo che era difficile, Lentella comunque era venuta qui non per guardarci o per farci giocare tranquillamente, siamo stati bravi a tenere la partita sullo 0-0, poi siamo stati anche fortunati perché il Moderna non è riuscito a vincere. La fiducia dell'allenatore è la base di tutto, è chiaro che se non hai quello magari fai più fatica, su questo il mister è stato molto bravo a dare fiducia a chi poi se l'è meritata. È stato giusto così, spero e credo di aver ripagato questa fiducia. La cosa importante però è che abbiamo centrato l'obiettivo. Sì, siamo arrivati nell'ultimo giorno di mercato, io e Camillo, quando abbiamo saputo della situazione che potevamo tornare qui non ci abbiamo pensato un attimo, sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare durante la stagione perché cambiare 24-25 giocatori non è facile, però penso che tutti, chi ha giocato poco, chi ha giocato tanto, tutti hanno dato una grossa mano per raggiungere questa salvezza. Siamo stati quasi tutti campionati a rincorre. Quando rincorre non è mai facile, questo ha dimostrato che siamo stati un gruppo unito, un grande gruppo che in campo davamo sempre il 100%, poi alla fine ha portato i suoi frutti. Non sta a me giudicarmi, faccio giudicare gli altri. Io questa stagione ho solo pensato di dare il massimo per il crotone, ripeto, sono arrivato l'ultimo giorno di mercato, sapevo quando io e Camillo abbiamo saputo di ritornare qui, sapevamo che avevamo un allenatore che ci voleva, quindi siamo stati conti che abbiamo dato una grossa mano a questa squadra e la salvezza è meritata. Grazie a tutti.